no e no di nuovo i stessi errori cioè io capisco anche ragazzi che non ho non ho avuto tempo di fare dei video ma io lo sapevo che non era facile giocare a belgrado ragazzi non è facile è una tifoseria calda e quelli sono rientrati in champions da parecchi anni quelli ce la metteranno tutta specialmente in casa poi sapendo di avere queste tre grandi squadre daranno daranno l'anima però tu caro napoli devi sapere ciò hai di nuovo avuto stai di nuovo riavendo lo stesso gruppo che hai avuto l'anno scorso con due grandi squadre è una che è una che diciamo è quella che come si dice l'italiano è il nella bilancia lì come si dice il pendolino nella bilancia come si con quella devi fare sei punti è uguale che che tosto giocare lì io lo sapevo ciò lo sapevo però tu caro napoli non puoi fare di nuovo questo errore mannaggia come dici da napoli ma come si fa de laurentis quella è una vera rovina del napoli de laurentis e cacciali sti cazzo di soldi hai una bella squadra con laudata adesso ti sei preso angelotti un grande allenatore ma uno due acquisti di qualità li vuoi fare ogni tanto mannaggia e che cazzo io ragazzi in europa ecco per chi tifo per le italiane in europa tifo per le italiane cosa che doveste fare tutti quanti cosa che dovremmo fare tutti quanti perché vogliamo tutti di nuovo un calcio competitivo al vertice e perciò bisogna anche augurare alle altre italiane di andare lontano ok capisco qualcuno di voi che alla finale ok dice non resisto ma almeno almeno in semifinale le vogliamo tifare fino in semifinale se non è la tua squadra quindi io in europa tifo le italiane e ora certuni di voi che mi diranno ma io non sono italiano regno delle due sicilie ok ok anche io so bene la storia del regno delle due sicilie la so benissimo ragazzi ma intanto eravamo anche prima degli italiani e come dire per me dire italiano è come dire scandinavo oppure iberico però lo siamo anche se siamo due siciliani siamo sempre italiani ok quindi forza le italiane sempre e comunque sempre e comunque e poi al nord c'è gli italiani sono più del sud che del nord anche quelli che vivono al nord c'hanno origini italiane del sud italia scusate comunque sia napoli no no e no hai commesso di nuovo lo stesso errore e questo potrà costare caro perché nel gruppo non è che c'hai due bidoni c'hai liverpool e paris san gemen mi auguro che il napoli possa fare spettacolo contro le altre contro le big il napoli se la può giocare sarà difficile ma se la può giocare però una partenza così non ci voleva capivo me lo immaginavo che sarebbe stata dura se finiva 1 a 0 non mi sarei stranizzato se così si dice però non puoi pareggiare non puoi commettere lo stesso errore dell'anno scorso sarà adesso difficile comunque sia forza napoli in europa forza le italiane sempre e comunque forza italia tifiamo le nostre squadre italiane a casa magari ok un'altra cosa però in patifiamole ragazzi conta per il nostro prestigio forza italia